Noi moderati vuole dare voce a quei milioni di elettori che all'interno della coalizione di centro-destra pensano che l'Italia possa ripartire se riparte dalla educazione, dalla scuola, dalla famiglia, dall'alleanza tra impresa e lavoro, contro l'assistenzialismo, ma lo deve fare mettendo a disposizione competenza, responsabilità, serietà e concretenze. Questa è la proposta politica di noi moderati.